E poi oggi è la giornata della sua nascita, e già qua mi è nata una stella, con l'idea di continuare a portare avanti l'idea di Massimo Tomesi, cioè che il giovane potrà stare in un luogo dove poter crescere. E poi la seconda è questa prima, noi c'entriamo di dare opportunità a tante eccellenze alla scelta. Con sogni di laudare di Massimo Tomesi, io vi sono la prova concreta che i giochi si realizzano.